Buona giornata, oggi il 19 di marzo immancabilmente è la festa, il richiamo alla festa del papà ed il richiamo anche al riconoscimento di ognuno di noi come figli del nostro papà. Possiamo aver avuto delle esperienze positive, chi ha avuto esperienze diciamo anche tra virgolette negative, papà che continua a essere su questa terra, quei papà che sono in cielo, l'occasione di saper ringraziare di aver avuto la vita da un papà e da una mamma, saper ringraziare il nostro papà. Sei forte papà, ecco anche se non so cosa dire, sei forte papà e questo sicuramente dà un significato a quella che è la nostra vita perché grazie a lui che noi siamo qua, certo anche la mamma sicuramente, però grazie a quel legame e allora vogliamo ringraziare anche questa paternità di Dio che ha consegnato ai nostri papà e alle nostre mamme questa capacità di generare, di continuare a generare e di continuare a generare noi tutti che saremo per l'eternità, siamo per l'eternità. Ecco allora che questo ringraziamento oggi, sei forte papà, possiamo ripeterlo e forse dirlo là dove siamo oppure ricordarlo nella preghiera, sei già col Signore in cielo. Il Signore ti illumina e ti benedica. Buona giornata.